subito, però il ragazzo ha detto voglio provare, non voglio finire come infortunato però quando si è stirato o non contratto stirato non ce la fai io speravo che avvenzi una botta nelle palle, invece no purtroppo purtroppo il ragazzo purtroppo si è stirato invece una botta di culo con l'altra squadra probabilmente si però anche questo è da apprezzare perché questi ragazzi erano in sintonia con l'ambiente, con l'allenatore quello che volevano dare e fare fino alla fine quindi peccato, peccato, peccato però ripartiamo da Corbicchiere, non mezzo, tre quarti pieno e vediamo nei prossimi due mesi che cosa succederà con calma senza cominciare a fare mercato, formazione e altre cose ci sarà tempo per sistemare tutto per bene a 360 gradi grazie